Pesaro ha commemorato l'ottantesimo anniversario della sua liberazione anche attraverso la voce degli ultimi reduci di quel tragico periodo bellico confluito nella svolta del 2 settembre. Fra questi Gianni Rulli che a 97 anni rimane uno degli ultimi depositari di quella cruciale pagina di storia cittadina. Troppo non c'è più nessuno che vada in piazza e diceva ma non c'è più, è morto, io non ho più un amico né al porto che eravamo così, tutti mi volevano bene, ancora mi vogliono bene, ma non c'è più nessuno, sono morti tutti, ma sono morti, ma io sono stato sempre miracolato, non si può dire di no, che ti scoppia una bomba qui nelle ginocchia, muoiono tutti quelli vicini e io no. Una vita lunga dopo una gioventù percorsa a costante contatto con la morte, come quando da staffetta partigiana Rulli nascondeva armi lungo il foglia e venne scoperto dopo aver spostato una mitragliatrice da una palazzina di via dell'Acquedotto. Per ispezionare la zona naturalmente, hanno visto che sta mitragliatrice non era al posto suo, sono venuti giù con la camionetta, io non ho fatto in tempo a scappare via, al terzo piano, perché c'è trami di scale, madonna sono arrivati da in fondo, bagliavano, dai dai, come vuoi dire, quindi non scappa, lui è rimasto lì dentro. O ti fai prendere o ti butti te dalla finestra, perché tanto loro ti ammazzano. A proposito di finestra, cosa ho fatto? Un attimo lì, perché è una questione di secondi, perché già loro erano ai piedi, ho aperto la finestra, mi sono messo fuori, sui davanzali, c'era così di spazio, mi sono messo in piedi così, ho richiuso le persiane e sono rimasto così. Loro, capiranno, hanno incominciato a ribalzare tutte le brande autodire, tanto questo qui, questo è qui dentro, non scappa di sicuro. Insomma, hanno fatto un disastro. Fortunatamente, io qui davanti a lei, non hanno aperto la finestra. Io pensavo, eccoli, eccoli, perché bastava con un ditino, perché avevo lo spazio e non c'era. Forse di stare così erano che stanchi. Insomma, si sono stufati, si sono andati via. Capirà me, un sospirone. Reduci e figli di Reduci, come Anna Maria Anders, ambasciatrice della Polonia in Italia, e figlia del generale Vladislav Anders, del secondo corpo d'armata polacco, protagonista della liberazione della città. Una bellissima, bellissima ceremonia. Abbiamo fatto questi vari monumenti, soprattutto quello che è dietro di me, con le foto di questa gente giovane, molto, molto emozionante. Grazie, vorrei ringraziare italiani che si ricordano sempre dei polacchi, sempre, tutte le cerimonie si parla in polacchi, e devo dire che anche i polacchi si ricordano sempre italiani, abbiamo veramente tanti legami. È un'occasione per ricordare il sacrificio di centinaia, se non migliaia di persone, di giovani, non solamente italiani, ma di persone venute da mezzo mondo, appunto per liberare e per liberarci. Grazie.